Ciao a tutti ragazzi, oggi faremo questo scherzo epico a un mio amico praticamente ragazzi andrò in questa mappa di boxfet e lo trollerò con questo danno assurdo che c'è il bug del danno e in questa mappa c'è il bug del danno e quindi lo potremo trollare ragazzi facendogli dei danni e lui raga succederà il delirio andrà in tutte le furie, lo dico che andrà in tutte le furie allora lo sta registrando che sta registrando, raga andrà in tutte le furie questo mio amico allora prima di tutto lo richiamo perché lui non può stare con il microfono quindi lo chiamo, quindi ragazzi succederà il delirio, si sclererà un sacco andiamo ok ragazzi siamo qua, ho chiamato Giampi, saluta ciao ok dovreste sentirlo, andiamo dentro allora faccio squadra 2 oggi ragazzi faremo un po' di boxfet come vi avete chiesto nei commenti ok abbiamo la parcicia allora eccolo qua che pusha subito tensione allora ragazzi vi dico che lui è molto bravo a mirare in testa quindi mi fa dei bei danni soprattutto col portato ok errore mio, non avevo questo ho bisogno recentemente di curarmi se non ho freddo ho bisogno recentemente di curarmi se non ho freddo oh ma cos'è quella cosa viola? eh ho fatto una skin che si può mettere in un modo strano ho guardato un video dopo te lo spiego come si fa se la vuoi avere anche te oh 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 c'è il caldo c'è il caldo c'è 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 il c'è 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 oh my god 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 anche me infatti non mi ha fatto il 3-2-1 non mi ha fatto il 3-2-1 è partita su non mi ha fatto il 3-2 non mi ha fatto il 3-2 non mi ha fatto il 3-2-1 è partita su non mi ha fatto il 3-2-1 ok tutto a posto non mi ha fatto il 3-2-1 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 non mi ha fatto il 4-2-1 mi ha fatto il 3-2-1 allora Ciampi Ciampi se non vuoi morire stammi lontano stammi lontano stammi lontano ho fatto 201 una roba stranissima trisham ovario bo no pe no pe no pe no pe no no pe no pe! io sto laggando non mi ha fatto vedere no se mi faccio via no 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 porco dio ok zombie allora ti spiego il trucco allora seguimi i pini dove vado io allora no è una roba assurda allora seguimi vabbè aspettiamo che allora vieni qua da me fai una scala e vieni qua su ok allora vai vicino a quel use code use code jkai ecco colpisci mi guarda quanto danno fai chi dove è hai visto bastardo ti ho trovato tutto il tempo ero video troll mi ero già messo d'accordo con gli iscritti era tutto programmato guarda che scleravi un botto però il trucco non funziona dopo due round segutigli cioè devi devi prenderlo un'altra volta subito non funziona ah con la R sai quanto danno fa sta cosa 100 132 a colpo ecco perché io che mi avevo dato due colpi e ha sciuto il colpo come fu ti eri un po' insospettito di quella roba strana oppure no mi sono molto insospettito quando tipo mi hai preso allora guarda ti do un colpo ti do un colpo di R guarda stai fermo non muori subito tanto in un colpo allora guarda col piccone intanto il piccone fa 90 di danno fa 80 infatti le costruzioni in un colpo le distrugge ma è bellissimo sto bug cioè ti immagini trollare gli amici bellissimo no bravi cosa ok adesso non lo prendiamo più comunque tanto il video è durato 10 minuti quindi posso concludere e niente ragazzi spero che questo bug epico vi sia piaciuto usatelo anche voi con i vostri amici per farli incavolare di brutto e niente noi ragazzi ci rivediamo ad un prossimo video bello